Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca perquisizione alla Chimet di Badia Alpino. Nelle scorse ore, esattamente nella mattinata di ieri, sono stati i carabinieri del NOE di Firenze, il nucleo operativo ecologico, ad effettuare il blitz. Si tratta di una nuova indagine a margine dell'inchiesta principale del filone Cheu. Anche questa volta al centro dell'inchiesta la gestione dei rifiuti, in particolare la classificazione degli scarti di lavorazione conferiti in un periodo temporale che va dal 2012 al 2021 in un impianto di Viterbo. La Chimet ha diffuso una nota in merito a questa nuova indagine. Si è trattato, spiega l'azienda, dell'ennesima verifica riguardante il codice attribuito al rifiuto risultante all'esito del processo di recupero dei metalli preziosi. Nello specifico il controllo si è incentrato sul conferimento di questo rifiuto ai fini del suo recupero in un impianto del Viterbese che si è protratto sotto il costante controllo di Arpa Toscana, Lazio e Lazio, Regione Toscana e Regione Lazio. Proprio dal 2012 al 2021 l'azienda è fermamente convinta, chiude la nota, di aver sempre attribuito un corretto codice al rifiuto. Coltivazione di marijuana all'interno di un garage denunciato un trentenne. È stata la Polizia di Stato a scoprire questa attività illegita grazie ad una segnalazione arrivata tramite l'app YouPoll attraverso la quale si possono effettuare segnalazioni in forma anonima. La segnalazione era arrivata tra la mezzanotte di lunedì 29 e le prime ore del mattino di martedì 30 maggio. Si parlava di una fuoriuscita, di un forte e persistente odore di sostanza stupefacente, proprio verosimilmente marijuana, all'interno di un garage. Arrivati sul posto gli agenti hanno scoperto una struttura nascosta da un telo ombreggiante, una grow room, ossia una piccola struttura per la coltivazione della marijuana. All'interno quattro piante di circa 80 centimetri e 13 rami di marijuana dentro un essiccatore. Poi nell'appartamento dell'uomo, come detto denunciato, c'erano anche quattro barattoli contenenti marijuana già pronta per l'uso. E proprio la Polizia di Stato questa mattina ha consegnato il mio diario, il servizio di Chiara Sadotti. Avventure, cruciverba, spazi per raccontare i propri pensieri e tante pagine da riempire, non solo con i compiti della settimana, ma anche con riflessioni su temi dello sport, dell'inclusione sociale, dell'educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network accompagnati dai supereroi della legalità, Bis e Musa, con l'aiuto dei loro amici a quattro zampe. Il mio diario è infatti un'agenda pensata per trasmettere i valori della legalità e sarà quella che per l'anno 2023-2024 avranno tutti gli alunni delle future classi quarte di Arezzo. È una diffusione della legalità tra i più piccoli, ma i più piccoli sono i cittadini del domani, quindi è bene iniziare sin dai primi passi nella scuola a diffondere il principio della legalità e quindi il rispetto delle regole. I primi a ricevere simbolicamente il diario della Polizia di Stato sono stati gli studenti delle terze della scuola primaria statale Santetani. Il quartiere Saione è un quartiere attenzionato dalle forze dell'ordine perché naturalmente presenta delle problematiche ahimè note ed è proprio per questo che i cittadini che vivono in questo quartiere devono sentire ancora più forte la presenza della polizia e soprattutto i bambini che vivono e cresceranno in questo quartiere devono crescere con delle idee ben chiare sul concetto di legalità. È stata scelta la nostra scuola che è una scuola che sicuramente insiste in un territorio che ha le sue difficoltà, le sue criticità, però è anche molto ricettivo e quindi come dire c'è bisogno ma c'è anche la risorsa per rispondere ai bisogni. È un piccolo semino quello che si pianta? Decisamente è un piccolo semino, si spera che diventi un grande albero. Presente anche l'Arezzo Calcio neopromossa in Serie C. Noi come educatori dello sport dobbiamo anche inviare un messaggio di legalità e di rispetto delle regole. E una scuola primaria credo che sia proprio il punto focale, il punto di partenza della crescita di ogni persona e da qui che nasce la cultura dei ragazzi, da qui i ragazzi imparano a scrivere, a leggere e dovrebbero imparare quelle che sono le regole della vita. In questi giorni saranno distribuiti ideari anche a tutti gli istituti comprensivi di Arezzo e provincia per un totale di oltre 2.500 copie. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana contro il muro di Santa Mama. È la sindaca del comune di Subiano di questa vicenda, ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro telegiornale, a scrivere appunto a Sergio Mattarella per sollecitare un intervento che tuteli la sicurezza dei cittadini e la dinamicità di un piccolo burgo. Al centro dell'attenzione appunto la vicenda riguardante l'edificazione del muro di cemento armato in corrispondenza dell'uscita sud del paese, opera che impedirebbe il transito di auto e pedoni sul passaggio a livello della linea Arezzo-Stia. I lavori, stando alle comunicazioni fornite all'amministrazione tra Regione Toscana e LFI, gestore del servizio, dovrebbero prendere avvio il prossimo 3 di luglio, ma per noi, dice la sindaca e soprattutto anche residenti, si tratta dell'ennesimo colpo, benvengano interventi di messa in sicurezza, ma non è certo con un muro che si possono risolvere queste problematiche. Come dicevamo, la questione appunto finirà sul tavolo del Presidente della Repubblica. E adesso invece parliamo di case popolari, la denuncia arriva dal Sunia, ieri ve ne avevamo parlato con un comunicato stampa all'interno del nostro telegiornale, oggi siamo andati a vedere sul posto con le nostre telecamere. Il servizio. Questa è la camera dei bambini e c'è le infiltrazioni sopra le rettine dei bambini. E qua ce la vedi? Ogni volta vedi perché non metto la roba sopra? Vedi? Non si può stare. Muffa ed umidità all'interno delle abitazioni dove vivono anche bambini piccoli. Stanno sempre ammalati con l'umidità, con la muffa. Cioè, l'inverno in camera da letto devo sempre aprire le finestre. Poi prima di andare a letto ovviamente mezz'ora prima devo chiudere. Cioè, non si può. Questa la situazione denunciata da alcuni inquilini delle case popolari di Via Funghini ad Arezzo. L'anno scorso è stato un incubo in questa casa, c'avevo tutto il tetto. Se inizia di nuovo a pioverci in casa, io penso che nessuno vorrebbe stare in una casa del genere. Qui da due anni i condomini attendono la conclusione dei lavori. Hanno speso sicuramente tanti soldi, ma non l'hanno finiti. L'acqua, non essendo tutto piastrellato in pendenza, va di sotto, filtra e filtra nelle case di questa gente. Che ha i figli, che fa la muffa e quindi tutto quello che comporta. Ma non solo infiltrazioni. Infattabile doveva essere già sistemato anche per quanto riguarda tutto il muro che continuamente cade. Cadendo il muro quando piove, dove va a finire questo muro? Negli scarichi. E gli scarichi si intasano. Intasandosi l'acqua di borda e va dove non deve. Quindi qui o mettono le mani per bene e sistemano tutto, se no che si fa. Un allarme adesso raccolto dal Sunia, il sindacato dei condomini dell'edilizia residenziale pubblica. È una situazione che ha bisogno di seri interventi, perché è una situazione, diciamo, anche di degrado per chi gli sta intorno. Quello che noi abbiamo chiesto e proviamo a chiedere è che chiaramente questi lavori vengano fatti, sia per una dignità delle persone, perché le persone hanno diritto alla casa, a una casa decente. Sembra che nel 2024 ci sia qualche altra disponibilità, ma il problema dei Funghini, noi ci preoccupa che non è solo via Funghini, è un problema generalizzato. Dal Sunia poi l'appello ad unire le forze per presentare un documento rivolto alla Regione e al Governo. Ci sembra che mettere insieme sindacato degli inquilini, proprietari e enti locali sia un segnale per chi sta in alto per dire sì. Allora è un problema generale, non è solo noi che si rivendica. Dopo le dimissioni di Franco Scortecci spunta il nome di una donna per il ruolo di amministratore delegato di Coingas. Si tratta di Paola Petruccioli, avvocatessa di professione politicamente vicina alla lista civica di Alessandro Ghinelli. Il suo ruolo di presidente della Casa Pia era terminato nel gennaio del 2021, quando era subentrata Deborah Testi e per questo è possibile che venga appunto rinominata senza incappare nella regola della ineleggibilità, ovvero il far passare due anni di cosiddetto raffreddamento appunto tra un ruolo pubblico e l'altro. L'assemblea nella quale sarà annunciata ai sindaci dei comuni soci si terrà proprio domani, giovedì 1 giugno, alle 10. Sembra invece slittaria, dopo l'estate, l'assemblea di Estra che porterà alla fine del mandato di Giovanni Grazzini come membro del CDA in rappresentanza del territorio arettino e che vedrà poi il probabile rientro di Francesco Macri, decaduto dal presidente proprio per la regola del mancato raffreddamento contestata dall'ANAC. Adesso invece parliamo di una bella donazione, una scelta di una famiglia aretina dopo che insomma un lieto evento è andato appunto a buon fine. Vediamo il servizio di Chiara Sadotti. Quando si aspetta un bambino si pensa sempre solo alla parte bella, quindi ci eravamo preparati a goderci quei momenti a casa e in tranquillità invece c'è stata qualche complicazione che però poi alla fine si è risolta nel migliore dei modi. Il piccolo Edoardo è nato lo scorso 19 dicembre all'ospedale San Donato di Arezzo. Subito dopo la nascita è stato ricoverato per qualche giorno nel reparto di neonatologia. Durante il parto abbiamo avuto un po' di problematiche e quindi è stato ricoverato per qualche giorno in terapia intensiva neonatale e quindi per la nostra esperienza perché comunque nella difficoltà alla fine ci siamo trovati molto bene in reparto tra i medici, gli infermieri e gli operatori che sono molto gentili e disponibili in tutto e quindi abbiamo deciso con l'occasione del battesimo di fare questa donazione per aiutare altre famiglie come noi che si ritrovano purtroppo a vivere questa esperienza direttamente. Grazie ad una raccolta fondi sulla piattaforma GoFound.me sono stati raccolti circa 3.000 euro che adesso serviranno per l'acquisto di strumentazioni all'avanguardia che saranno a disposizione del reparto. Noi siamo costantemente in contatto con il reparto e con la dottoressa Maggi e sono loro stessi che ci dicono quali sono le loro esigenze che possono essere di tipo medico quindi l'acquisto di strumenti oppure già dall'anno scorso abbiamo attivato un servizio di supporto psicologico per le famiglie e per lo staff. Perché questa vicinanza a questo reparto da parte dei genitori? Perché quando uno riceve sente il bisogno di dover ricambiare. Grazie alla donazione sarà acquistata una sonda ecografica wireless che può essere utilizzata anche nell'incubatrice. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato dal 3 al 5 giugno. Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo, farà tappa anche ad Arezzo per sensibilizzare i cittadini sui benefici della raccolta differenziata e in particolare sull'importanza del riciclo degli imballaggi in acciaio. L'iniziativa promossa da Ricrea, il consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio parte dal sistema Conai, darà appunto ad adulti e bambini l'opportunità di scoprire che l'acciaio si ricicla al 100% all'infinito e che il corretto conferimento è il primo passo proprio per innescare il circuito virtuoso dell'economia circolare. Capitan Acciaio accoglierà gli aretini, come dicevamo, dal 3 al 5 giugno in piazza Saiacopo. Torna ad Arezzo l'iniziativa, Poti a piedi, il servizio. È la quarta edizione e è un messaggio a tutti gli aretini che amano questa montagna sacra per tutti noi di questa città. Potete venire sia correndo, quest'anno c'è anche la corsa, potete venire camminando e potete venire pensando che poi c'è una navetta per la prima volta quest'anno che vi può riportare da dove si inizia il percorso Villa Severi. Valorizzare l'Alpe di Poti, promuovere il suo recupero turistico ed ambientale ed infine sostenere il calcit di Arezzo. Torna così la quarta edizione di Poti a piedi in programma domenica 11 giugno che avrà quest'anno molte novità che aumenteranno il suo fascino. La fatica è dimezzata, ci si trova a Poti per valorizzare questo splendido posto in decadenza purtroppo e abbiamo bisogno anche di voi per far vedere che potrebbe ritornare la Svizzera di una volta di Arezzo e siamo lì proprio per fare delle cose anche per beneficenza assieme al calcit e assieme a tutta una serie di amici. Poi è una bellissima giornata che vi chiediamo di venire a condividere con noi. Dopodiché anche come cittadini penso che veramente Poti ci andrebbe messa veramente un'attenzione particolare prima di tutto anche per metterlo in sicurezza perché comunque la gente a Poti ci va anche in maniera personale e il posto non è in sicurezza. Perciò se questa iniziativa riusciamo ad abbinare insieme a Corretti Restri di Vita anche a un'attenzione da parte dei cittadini ma anche da parte dell'istituzione penso che poi alla fine Poti potrà diventare o veramente ritornare un posto dove andare veramente con gioia perché una volta era la montagna di Aretini e in sicurezza che è ancora molto più importante. E allora non andranno a piedi ma invece all'interno di un autobus di Autolinea Toscana tutti i residenti della zona di Via Fiorentina che dovranno raggiungere l'ospedale Sandonato di Arezzo nei giorni scorsi la protesta proprio da parte dei residenti per le poche corse appunto che la società aveva destinato a questa tratta dopo l'intervento anche dell'amministrazione comunale c'è appunto l'annuncio proprio di oggi che con l'entrata in vigore dell'orario nei giorni feriali a partire da lunedì 12 giugno sarà proprio intensificato il servizio di trasporto urbano tra Via Fiorentina e l'ospedale Sandonato di Arezzo. Siamo riusciti, dice l'assessore Alessandro Casi, a dare ancora una volta una risposta alle numerose richieste da parte dei cittadini proprio per potenziare un collegamento importante appunto quello tra Via Fiorentina e l'ospedale. Ringrazio, dice Casi, Autolinea Toscana. Ci spostiamo adesso invece al Parco Pertini, per tutti gli aretini il Parco Giotto perché oggi ha decisamente ripreso vita con l'apertura del punto Menchetti è un'esperienza che ha anche il sapore sociale grazie alla copartecipazione di Coinet. 3, 2, 1, via! Qual è l'emozione di aprire questo punto proprio nel cuore di Arezzo, della vostra città? Guardi, sono stato io a decidere. Quando ce lo presentarono, se vieni qui nel parco allora era chiuso, se può dire, non c'era niente. Però la posizione mi piacque. Poi si avvicina a un altro bar che è di Arezzo, insomma la soddisfazione è che la gente ci accoglie perché anche da Arezzo vengono riuscise al nostro bar perché sono contenti del servizio, della roba che si dà, che si fa tutto noi. Oggi un'emozione particolare, tante istituzioni a questa inaugurazione, a darvi il benvenuto nel cuore di Arezzo. Sì, è il giorno della festa ma ora è da domani che incomincia la cosa più difficile per noi. Oggi chiaramente è un giorno a giornata che bisogna goderci tutti, che bisogna far capire cosa abbiamo fatto, far vedere cosa abbiamo fatto. Diciamo, è la nostra prima vetrina. Come si dice? Il primo impatto è sempre quello che conta. Speriamo che le persone abbiano un impatto buono. Quello che è stato detto, insomma, è vivere questo parco in tutte le ore della giornata. Sì, questo è quello che io, prima di prendere questa decisione, ho visitato diversi parchi, non solo, diciamo, nelle città più importanti che in primis è Milano, che è la città più europea, ma da Londra, Parigi, Lione, i parchi sono vissuti dalla mattina a sera da tanta gente. In un parco così ci sono 8-10 attività, cosa che perché le persone stanno fuori, vanno a correre, si divertono, camminano, giocano a pallone, a calcio, a palla a volo. Il parco deve, se riusciamo, se noi ci proviamo, farlo ritornare al parco di un tempo. Io sono venuto qui a 16 anni da scesa per venire qui a giocarci a calcio, perché non si può fare ora. Il ragionamento che ci ha spinto a suo tempo a partecipare alla gara indetta dall'amministrazione comunale con un progetto, tra l'altro, di contenuto, è proprio quella di restituire al parco la centralità della vita degli aretini, degli aretini normali, degli anziani, dei bambini, dei genitori con la carrozzina, esattamente come era storicamente. Cioè ci sono parecchie generazioni di aretini che hanno allevato i figli qui. Io sono uno di questi. Prima i miei figli, che adesso sono grandi, hanno 40 anni. Poi il mio babbo si veniva la sera a prendere il gelato col bastone. E' questo, questo polmone verde meraviglioso, che segue un'idea del vecchio sindaco Aldo Ducci. Dico vecchio pensando che ancora sarebbe ipermoderno con le sue idee. Lui aveva in mente una città dove i cittadini vivono insieme, scambiano, passano il tempo libero, in salute e in pace. Questo è il parco e questa è l'idea. La sinergia con Menchetti è straordinaria perché a loro volta hanno condiviso questa visione e ci hanno messo risorse, talento, competenze, professionalità, che non è banale perché l'operazione funzioni ci vuole gente capace. E entrambi noi lo siamo. E siamo alla cultura ed esattamente al secondo appuntamento di Voci in Canto. Il servizio. Dopo il concerto Cuore in Coro, che aveva visto la presenza della Scuola di Musica di Fiesole, è tornata la rassegna L'incanto della Voce, organizzata dall'associazione Voce in Canto. Il secondo appuntamento della nostra rassegna e siamo felicissimi di concluderla dedicata alla voce, ma in un modo diverso, non una voce corale, ma la voce di cantanti che raccontano una storia veramente molto molto importante. In scena nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, il primo omicidio oratorio a sei voci di Alessandro Scarlatti, protagonisti della serata, gli allievi della classe di canto del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena. Ognuno con delle caratteristiche particolari, si va dal baritono, tenore, soprano, soprano leggero, contralto e mezzo soprano, quindi ci sono tutti i colori immaginabili per la voce umana. La storia è quella di Caina Bele, Adamo, Eva, Lucifero e Dio, questi sono i personaggi. La storia è una storia che si ripete in tutta l'umanità e il segnale che vuole dare Alessandro Scarlatti è contro la guerra e insomma è una specie di inno alla pace. Il mondo del turismo aretino è nazionale in lutto per la scomparsa di Adina Persano, ex presidente dell'Associazione Guide Turistiche, scomparsa questa notte dopo una lunga malattia. è stato un faro per la nostra associazione, dice una nota ufficiale, per la sua cultura e la conoscenza del diritto e per la costanza nel seguire quotidianamente i passaggi della cronaca e della politica che ci hanno riguardato. Ci ha accompagnato con il sorriso in tutte le nostre battaglie, dalle manifestazioni di piazza agli incontri istituzionali. Hanno diffuso una nota anche il centro guide Arezzo e provincia che appunto ricorda Adina come prima fondatrice, presidente e maestra in tutti i sensi sia a livello locale, regionale e poi nazionale. La sua impostazione, la sua filosofia e la sua deontologia professionale hanno aiutato noi guide e la professione stessa portando Arezzo ad una divulgazione e promozione del territorio a livelli inaspettati. Dolore è stato espresso anche da parte di Paolo Giulieneri, cortonese, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli. Cara Adina, scrive, ti ricordo con grande affetto per il carattere battagliero e la tua sensibilità verso il patrimonio e grazie per tutto quello che hai fatto per la persona appunto che sei stata e la valorizzazione di Cortona e Arezzo alla famiglia, le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. Chiudiamo il nostro telegiornale con un servizio dedicato a sport e solidarietà alle ragazze della primavera che sono state festeggiate dall'Istituto Tevenin. Vabbè, abbiamo vinto comunque un campionato che non era facile, solo che l'abbiamo reso facile noi con il nostro gioco perché siamo davvero forti. Allora, intanto vorrei ringraziare il Presidente perché, come ho sempre detto, senza di lui questo non potrebbe mai succedere. Questa è una serata dedicata, sì, alla questione sociale, no? Perché comunque le nostre ragazze della primavera quest'anno, dopo un anno incredibile, sono riuscite appunto a salire nella massima categoria, quindi siamo molto soddisfatti di questo loro risultato. Sono molto giovani e quindi questo è un incentivo per tutti i giovani e per tutti gli aspetti sociali che giovani, grazie anche al calcio, riescono a mettere a fuoco tante qualità, tante loro qualità, le loro esperienze, la loro quotidianità. mixata con il calcio spesso evidenzia ancora di più le loro passioni e questa è una bellissima cosa. E poi dobbiamo dire che anche il calcio femminile negli ultimi anni sta crescendo non solo nel contesto aretino ma anche su tutto il territorio nazionale, anche proprio per quello che sono i temi, diciamo, dell'informazione. E' sempre più uno sport che non è solo prettamente maschile. Questo dunque è un segno dei tempi dove non ci sono più sport solo dedicati per i maschi e non ci sono più sport solo dedicati per le femmine. Dunque questo credo che sia anche da valutare come un fattore positivo. E poi la sera di questa sera, questa scena, innanzitutto è la beneficenza, dunque il tema fondamentale mettere insieme lo sport con la beneficenza, col sociale, perché non ci dimentichiamo che quanto mai lo sport soprattutto da ragazzi e da più piccoli deve essere anche un elemento di educazione, di socialità, lo stare insieme e questo credo che sia un fattore determinante. Un connubio importantissimo che noi come Fondazione Tevenin abbiamo sempre apprezzato, sempre voluto e devo dire un grazie grande, grande davvero all'Associazione Calcio Femminile Arezzo per intanto complimentarsi per la vittoria di questo campionato con i giovani allievi della squadra Primavera, per la salvezza della prima squadra e per aver voluto questa sera aderire a questo progetto che è un progetto simpatico, quello di unire la beneficenza, come dicevi tu, allo sport. Quindi festeggeremo questa bella cavalcata che hanno fatto quest'anno ricordando la nostra realtà che per inciso schiera anche qualche componente in qualche squadra giovanile. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortesia e attenzione. Arrivederci.